ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata prima di tutto vorrei farvi gli auguri di natale oggi è il 25 di dicembre e spero che questa giornata la possiate passare insieme ai vostri familiari e ai vostri cari spero che possiate passare una giornata felice questo è il mio è il mio augurio nella giornata di oggi nella puntata di oggi vorrei parlarvi della classifica delle moto più interessanti dal mio punto di vista che sono state non presentate ma che sono state introdotte nel mercato nel 2019 per cui le moto che sono state soltanto presentate non le considererò in questa particolare classifica voglio però partire da una moto che non ho inserito nelle prime tre che appunto la metto come quarta ktm 790 adventure ne abbiamo parlato abbastanza negli ultimi tempi io ho detto che secondo me ha dei difetti stilistici tanti di voi mi hanno detto che a cui che mi hanno detto che lo stile vi piace per cui naturalmente lo capisco nel senso che ognuno di noi ha i suoi ai suoi gusti io naturalmente mi riferisco insomma al serbatoio così largo al fatto insomma di questo cupolino che è un po staccato da una moto fondamentalmente molto bassa sia come serbatoio è un po su tutto sulla stessa linea poi c'è questo questo cupolino no molto molto staccato in tanti di voi mi hanno risposto mi hanno detto che la versione r è più bella e sono d'accordo quella con il parafango alto non so da un punto di vista poi della aerodinamica se questo può dar noia o meno un becco così alto sta di fatto che esteticamente effettivamente migliora e migliora parecchio c'è stata fatta anche una versione rally r rally è una serie limitata però c'è dei colori devo dire stupendi restano comunque sia dei problemi di cui ho già parlato se mai andate a vedere il video passato che parlava appunto della della ktm ma questo è il motivo per il quale io non non l'ho inserita tra le tra le moto mie preferite delle fra le prime tre ecco andiamo subito a parlare della della terza moto più interessante e badate bene che non è una non è una moto enduro no quindi non fa parte di quelle moto che normalmente di cui normalmente parlo secondo me è una moto importante è la royal enfield interceptor che viene fatta con lo stesso motore viene fatta anche la continental gt ma insomma l'interceptor è quella moto più con il manubrio alto è una moto che costa 6200 euro una moto che è 648 di cilindrata a due cilindri e questo è un fatto importante 47 cavalli che sono sufficienti un peso di 202 chili allora non è una moto naturalmente che io consiglio di comprare io ho messo l'ho messa come terza come moto interessante perché per la prima volta la royal enfield ha fatto una moto una moto a due cilindri e questo è un fatto per conto mio che decisivo in in india dove loro hanno 95 per cento del del mercato non hanno bisogno di grandi potenze perché i mezzi con cui di solito la gente gira in india sono mezzi lenti per cui li bastano pochi cavalli per poter fare un sorpasso non hanno bisogno di tantissima potenza quelli che hanno bisogno di potenza siamo più che altro noi perché oggi abbiamo delle macchine anche le utilitarie che comunque vanno vanno forte perché hanno questi motori diesel che hanno ripresa per cui noi per fare un sorpasso per fare insomma per avere un brivido in più abbiamo bisogno sicuramente di abbiamo sicuramente bisogno di più cavalli ma loro fino ad ora non ne hanno avuto bisogno mentre invece l'introduzione proprio di questa di questo bicilindrico fa capire che il mercato indiano sta entrando sta avendo delle sembianze si sta assomigliando molto di più a quello che è quello statunitense a quello o quello europeo per cui oggi non succederà subito perché l'amministratore delegato l'ha detto di royal enfield che l'himalayan ovvero la moto quella enduro è una moto che comunque sta incrementando come vendite per cui la moto che una moto che sta crescendo come vendite sicuramente non verrà sostituita ma prima o poi arriverà una royal enfield imalayan col motore bicilindrico e lì le cose cambieranno perché se oggi la royal enfield imalayan è una moto che io qua non consiglio perché ha 24 cavalli che sono secondo me insufficienti quando ne avrà 47 bisogna parlarne di quanto questa moto qui potrà veramente entrare nel nel mondo con un con prezzi come questo di 6.200 euro per cui ecco questa è una moto che ho messo terza proprio per rimarcare l'importanza di questa della royal enfield che ricordiamo è un'azienda che sta producendo un numero di moto che si aggira che si sta avvicinando al milione di pezzi per cui all'anno per cui è veramente una sta diventando veramente un gigante ecco della della produzione come produttore di moto andiamo al punto alla numero alla numero 2 che è la catenere 700 su questa moto qui non mi dilungherò perché ho fatto naturalmente tanti tanti video è una moto che è uscita quest'anno 75 cavalli a un listino di 9.800 euro poi ti levano qualcosa è 205 chili come come peso è una moto di cui ho parlato benissimo secondo me è una moto che naturalmente ha fatto un passo successivo quella è la chiave è il motivo per il quale la metto come moto più interessante e infatti proprio a rimarcare l'importanza che do questa moto io ci ho messo soldi miei che infatti l'ho comprata è una moto che io reputo molto interessante perché se voi andate a vedere come quando partirà il 5 o il 6 di gennaio la parigi dakar voi potrete vedere la yamaka che partecipa la parigi dakar questi quattro fanali questi quattro fanali che sono uguali ai quattro fanali che ha la mia di serie per cui questa moto ha fatto secondo me un passo successivo e oggi è la moto enduro più moderna moderna da un punto di vista concettuale da un punto di vista filosofico da un punto di vista della non dell'elettronica che ormai quella intrusiva con la quale siete tutti fissati e che non serve assolutamente a niente se la moto fossero se le moto fossero bilanciate se fossero costruite bene e non esasperate dai dai cavalli ma è una moto secondo me più la più moderna che c'è in questo momento perché l'unica moto che è riuscita a creare un link appunto con la parigi dakar che secondo me è il fulcro secondo me è il cambio è proprio il cambio di marcia secondo me che necessiterebbe che bisognerebbe che ci fosse ora in questo momento per cui reputo che questa moto qui che dal mio punto di vista è una moto molto bella molto bella perché ha riprende tutte cioè la sembianza proprio della moto che partecipa e che che gareggia nella nella parigi dakar che appunto partirà partirà tra poco come prima come prima moto tra le più interessanti di questo di quest'anno metto una moto che è veramente a mio avviso molto bella è il moto guzzi v85 tt allora secondo me i moto guzzi hanno fatto una moto stupenda hanno fatto una moto prima di tutto bella che non è un fatto che non è un fatto che passa in secondo piano a questo motore no il classico della moto guzzi av così che lavora in questo modo qui è una moto che esce con un prezzo giusto 11.590 euro è una moto fondamentalmente stradale che però può anche fare un po di sterrato un po di un po di fuoristrada leggero è 853 cm3 di cilindrata a 80 cavalli quindi una potenza giusta 208 kg questo è il suo peso allora fondamentalmente è uscita con dei colori molto belli molto vistosi è una moto veramente bella riuscita è un classico diventerà un classico è una moto che assolutamente io consiglio più delle v7 più di tutte queste naked che comunque hanno dei numeri di vendita importanti ma questa è una moto che potrete sfruttare molto ma molto di più è una moto molto più comoda per viaggiare in due è una moto sulla quale potete mettere le borse è una moto sulla quale potete fare il giro del mondo c'ha il cardano e non mi rimane altro che fare veramente i complimenti a moto guzzi hanno fatto secondo me hanno colto nel segno hanno fatto veramente una moto esagerata una moto veramente bella è una moto a cui io faccio i miei più sentiti auguri nel senso che spero che venda veramente tantissimo spero che diventa che diventi un è un classico moto guzzi ha una storia infinita è una una delle aziende se non l'azienda più importante al mondo come come innovazione anche durante naturalmente la sua la sua storia e per cui mi farebbe veramente tanto piacere che un che un modello di moto guzzi potesse vendere e vendere davvero davvero tanto ok io ho concluso no questa questa classifica ditemi voi un po quello che ne pensate se ritenete che io mi sia scordato qualche moto importante che voi ecco segnalatemelo sotto nei commenti ancora una volta vi faccio i miei auguri per di passare veramente un natale felice un natale sereno con le vostre famiglie e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti